Siamo con Claudio Parola, vicepresidente del Cuneo Volley. Nel giorno della presentazione della squadra abbiamo visto veramente tanta gente. Fa piacere vedere quanto la città di Cuneo sia vicina alla squadra. È stato davvero un orgoglio vedere la vicinanza alla squadra, anche perché è una delle nostre principali ambizioni, quella di riportare il pubblico al palazzetto, anche ricordando i trascorsi che tutti conosciamo. E quindi già in presentazione della squadra avere il sostegno di molta gente ci fa ben sperare per la prossima stagione. C'è tanta Cuneo in questa squadra, a partire dal coach, dalla dirigenza, dallo staff tecnico ai giocatori. C'è tanta, tantissima Cuneo e credono anche che siano veramente tanti ragazzi che sono cresciuti, che si sono denati, che hanno giocato a Cuneo, sia a motivo di ulteriore entusiasmo e probabilmente, insomma, speriamo anche un motivo in più per dare veramente il massimo nella stagione che andiamo a affrontare. Questo è importante. Non le chiedo pronostici sulla stagione o quasi del genere, però quello che voglio chiederle invece è quanto è importante una prima squadra, una prima squadra forte che possa trainare anche il settore giovanile. Fondamentale perché il settore giovanile è il fiore all'occhiello di Cuneo, sappiamo da Cuneo quanti giocatori hanno raggiunto obiettivi importanti nella loro carriera. Il settore giovanile non ha mai mollato, anche negli anni scorsi, quando magari la squadra, diciamo, di punta non era ai massimi livelli e comunque il settore giovanile è il fiore all'occhiello, continueremo a lavorare, lavorare tantissimo, abbiamo una struttura tecnica per il settore giovanile di altissimo livello e questo è quello che ci garantisce la possibilità di fare qualcosa di importante in futuro.